Il tratto è forte, ma il movimento è dolce, come una forma geometrica lunare. Il tratto è forte, ma il movimento è dolce, come una forma geometrica lunare. Non è piaciuta la risonanza che c'è stato il dialogo tra il gesto, il segno dello spazio e la piplessità nel senso di ricchezza. Ho sentito la necessità di, seguendo quello che succedeva, di fare quel segno con il mio corpo per chiudere delle cose di energia. E soprattutto pesano bene, perché c'è questo cerchio al centro e poi questa linea che si espande e che ha una continuità. E io adesso li vedo ancora una scena. E ora mi vedo ancora una scena. Un leone. Spruzzo di fontana. Una peruca!